Ciao a tutti ragazzi, come va? Oggi, siamo su Mafia The City of Lost Heaven, un videogioco creato da Illusion Software. Vorrei chiedere che questo gioco si ambienta in America nei anni 30, e Lost Heaven è basato su New York nei anni 30, beh, una città obamica in poche parole XD. Scusate se mi presento pochissimo, ma Dextory comincia a fare l'obamico. Ok picciotto, qui imparerai su come diventare un vero mafioso, prima però hai bisogno di una bussola per farti strada. Ora, segui la bussola per non perderti la tua strada. D'accordo prof, vado, non vedo nessun'anima viva qui in giro. Sei sicuro che non ti hanno seguito qualcuno? Ma non credo proprio che mi insegua, figuriamoci di Ergastoloz. Va bene, ora sali sul parco, attento a non rovinarti il vestito. E qua ho un vero problema, ma ci proverò, me la sento. Uno, due, tre. Salgo sul parco. E ti pareva che mi sono sporcato il vestito. Beh, visto che ti sei già sporcato i tuoi abiti, puoi allenarti con le capriole. Non serve a niente a don se cominci a beccare dei proiettili, l'importante è schivare i colpi di un'arma. Opla. Bosch. Ora vai al tavolo. Quando sei vicino al tavolo dell'angolo alla sinistra, compare il punto esclamativo. Questo è il pulsante d'azione. L'icona del pulsante indica che puoi interagire in qualsiasi ambiente che puoi, oppure puoi compiere un'azione. Ad ogni modo, puoi prendere le armi dal tavolo. Avanti prendilo, non avere paura di impugnare un'arma. Chi cazzo te lo dice che ho paura, me ne prendo due. Ora sono pronto per sparare. Ah, dimenticavo. Puoi compiere un'azione sul palco. Puoi compiere un'azione con il palco. Vediamo cosa trovi. Bla bla bla, prova prova. Piantala di fare il collone, è tempo di occupare delle faccende serie. Scegli un'arma dal tuo inventario. E smettila di imitare Fardock. Sono pronto. Beh allora che aspetti. Spara. Beccati questo faccia da sterco. Pure questo, subicio è caramelloso merdoso da merino come te. Citazione presa da Tanner il cane pazzo di ritorno al futuro terza parte XD, pronto per ricevere un proiettile. A giusto non puoi parlare, agagagagaga. Bravo il mio ragazzo. Sono orgoglioso di te, sei la persona piuttosta di tutti i mafiosi. Ricordati sempre di ricaricare la pistola. Per evitare delle brutte sorprese. Se capita di buttare un caricatore o svuoti i proiettili che ti servono, perderai tutti i colpi che non hai manco utilizzati. Fai una prova. Se la mettiamo così, allora ci provo a ricaricare la mia pistola. Sta cosa lo facevo ai tempi dei anni venti, da quando ero nel tiro di poligono con le pistole. Deve pur essere cambiato l'arma in un battibaleno XD. Prendi un'altra arma. Ho cambiato l'arma, e quindi che devo fare? Solo perché sei della mafia, non significa che tu vai in giro a esibire con una pistola. La polizia ti ergastolano. Se ti vedono un'arma in mano, dai mettilo via quella pistola. Beh, mi pare giusto nasconderla nel mio giubbotto. Adesso prendi la mazza da baseball sul tavolo. Ok, ora prendo la mazza da baseball sul tavolo. È impossibile tenere e nascondere sotto il cappotto tutte le tue armi alla disposizione. Se ce l'hai delle armi grosse come, una doppietta o un Thompson, e impugni un'altra e incontri uno sbirro ergastolante, dovrai buttare le armi per evitare che ti sgamano dalle forze dell'ordine comandati da ergastololz. Hai buttato la mazza, ora raccoglila subito. La polizia ergastolante, non ti daranno noie se vai in giro con una mazza da baseball, anche se potresti usare altre cose. Ora, lo vedi quella persona laggiù? Avvicinati a questa persona, e spaccagli con tutta la forza che c'hai. Voglio vedere di che pasta sei fatto. Devo dargli con tutta la forza che Paperino sposta TXD. A noi due caro mio. Tutto a dire io ti scoppio io, addio! Ah sì? Bella mazzata Tommy. Ora, per girare in città, ti serve un'auto per andare da un'altra parte. Avvicinati all'automobile, si trova lì fuori dall'edificio. Vediamo che macchina dovrò guidarla. Magari un'auto proveniente dall'Italia. Non credo proprio. Tu controlla fuori e vedi che non è quello che pensi tu. Un taxi? Esatto, puoi rubare qualunque auto che trovi. Basta che uno ti ho insegnato su come entrarci dentro. Ora devi forzare la serratura della portiera, ma ricorda, devi essere sicuro che la polizia ergastolante non ti vede rubare un'auto. Va bene professore, so già come devo iniziare la mia carriera. Ora che sei a bordo di un'auto, accanto alla bussola compare un radar. Puoi vedere i veicoli che si trovano nell'aria circostante, e anche la destinazione, se sei vicino. Raggiungi il punto della destinazione indicato con una X. Queste auto sono... C'è vergogna, Tommaso Bersello? No, Bersello di C, Tommaso Angelo vede le marce di che este auto, io gridare l'ergastolo. Ma porca puttana uomino, smettila di rompere i coglioni pure qui, stronzo. Stronzo lo dici che è la badracca di tua madre. Oh 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 oh, innanzitutto badracca è tua madre, e non la mia, figui. Pula, tu si nutto ammiscato con enti, quindi picchino ti ammazzi. C'è vergogna, Tommaso Angelo mi dice di ammassarmi da solo, io gridare l'ergastolo. Stai zitto uomino di merda, che già sei uomico di per sé. L'assaurire stormino, seguimi. In tutte le auto dei cittadini, hanno il limitatore di velocità. Usala per non farti vedere dalle pattuglie di polizia di accesso o di alta velocità. Le auto degli sbirri, appariranno in blu nelle rade. Tienilo sempre attivo il limitatore, così sei al sicuro. Per prima cosa, voglio vederti come ti difendi in auto mentre spari. Dai che sarà una passeggiata. Prima devo parcheggiare per bene nel punto di posizione. C'è certo Tommaso, ti lascio tutto il tempo necessario per parcheggiare. Non metto fretta a nessuno. Grazie prof, lei è una persona buona per me. Non c'è di che amico mio, molti avranno il tempo necessario. Certo. Tu si nutto ammiscato con enti, duno una boffa capi da retini neutra. Tavi a venire a cercare a scientifica, figlio di succa minchia. Bacchio di tosodu. Ancora non ti basta. Figlio di succa minchia. Scommetto chi guatri in una vita in enti da fari, e giustamente volete farmi enne culo tanto. Non credo proprio, dovete morire all'istante. Agagagaga, ti sei divertito a sparare vero? Beh, sono orgoglioso di te. Ora, prova di nuovo a sparare per l'ultima volta con una Colt Detecti Special, va bene. Solo l'ultimo. Solo se riesco a parcheggiare per bene. Come ti ho già detto, prenditi il tuo tempo di parcheggiare. Non mi piace mettere fretta a qualcuno. Ora, se vuoi che tu gli sposti i veicoli dei cittadini, o vuoi chiamare gli amici per fare una missione, devi prendere il clacson. Ora sta a sentire, in questo lavoro dobbiamo evitare di far attirare l'attenzione ciò che ci circonda. Attento alle pattuglie degli ergastolatori che girano in città. Se commetti un'infrazione lieve, vedrai apparire il simbolo di una multa. Basta che ti fermi, paghi, e te ne vai per i fatti tuoi. Se ti beccano e commetti un reato più grave, vedrai apparire il simbolo delle manette. Puoi cercare di seminare la polizia. Ma se ti pigliano, finirai in gattagù, e per finire, tieni sempre nascoste le tue armi prima di andare in giro per la città. Se la polizia ti vede sparare, apparirai il simbolo di una pistola. Ad ogni modo, sarai ricercato da tutti i poliziotti della zona che ti risponderanno al fuoco. Come cavarsela in una situazione di questo tipo, sono cazzi tuoi, ci siamo. Da questo momento dipende da te, e far capire chi sei tu. Ora, puoi uscire dall'angolo di tutorial, ma non quello di X-Friendly, ma dalla mappa del gioco. Bene ragazzi, il video si conclude qui. Spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetemi al mio canale, e grazie per aver raggiunto a 70 e 80 iscritti, mettete un mi piace, condividete e commentate. Inoltre, consiglio di attivare la campanella delle notifiche, per ricevere dei nuovi video. Noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi e statemi bene.